Siamo via alle danze musicali maestro Fa piacere, allieta il nostro pubblico E dimostra che sei il più grande chitarrista Il numero uno Vai Siamo via Suona col cuore ragazzi Siamo via Siamo via Voglio sentire un applauso da Facebook Abbastanza forte Perché deve sentirlo Che il calore lo circondi 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 E con queste ultime notti Vi lasciamo con molto amore Perché solamente la musica Può trasmettere queste sensazioni E un applauso al maestro Grazie a tutti ragazzi Buona serata